Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento. Oggi è una giornata particolarmente piacevole per me perché oltre ad avere un ospite del sesso presentiamo un libro e quando si presenta il libro c'è sempre un po' di magia e questa magia viene amplificata dal fatto che questo libro racconta una storia importante, una storia siciliana che non è stata dimenticata ma probabilmente è stata rimossa perché è una storia che è accaduta tanti anni fa. Quindi io dopo questo piccolissimo preambolo do il benvenuto a Francesca Lamantia, regista, scrittrice, che oggi ci parlerà della sua ultima opera, un libro, un romanzo che però attinge dalla verità, che racconta la storia di Cosimo Cristina, il primo giornalista ucciso dalla mafia, una storia che ha 63 anni. Francesca a te la parola. Buonasera, Cosimo Cristina è… Tutto con la cortesia, il libro, perché facciamo anche un po' di promozione. Esce al Salone del Libro di Torino, sabato, domani parto, esce sabato, si chiama Un uomo senza paura, d'Artagnan, la storia del primo giornalista suicidato dalla mafia. Suicidato tra virgolette, è stato suicidato. Per i tipi di la corte di Tore. Per la corte di Tore. Esce per la corte di Tore e verrà presentato al Salone del Libro Ottolino, venerdì e sabato e domenica e poi uscirà in tutte le librerie e on store il 26 maggio. Ok. È un romanzo a cui tengo particolarmente, questo è il mio sesto libro, però è un romanzo a cui tengo particolarmente perché è un romanzo che è frutto di sette anni di indagine. L'ho scritto a quattro mani con Angelo Urgo che è un bravissimo autore e abbiamo impegnato tantissime energie nella ricerca. Anche perché è abbastanza difficile ricostruire vicende collegate alla mafia a 60 anni di distanza. Ci racconti chi era Cosimo Cristina? Perché magari chi ci ascolta ha un po' rimosso questo personaggio dalla storia. Cosimo Cristina era un ragazzo e dico così perché a me ha fatto tanta tenerezza dover raccontare la sua storia e quando ha cominciato a scrivere aveva 20 anni. Lui scriveva per i più importanti giornali di quel tempo, per l'ora, per la stampa, per il settino di Venezia, per tantissimi giornali nazionali anche, ma aveva… Un precario antelittera, ma diciamoci francamente, senza le coperture, quindi un kamikaze lanciato… Andava in bicicletta con la macchina fotografica, il taccuino, arrivava primo di tutti sui luoghi da raccontare e alle sei del mattino era già a Palermo, tornava a casa con l'ultimo treno della mezzanotte, lui era di Termini Merese e Cosimo… Di cosa si occupava? Cosimo aveva una fissazione. Cosimo, se… Tu ne parli come se fosse il tuo miglior amico? Eh, ormai hai il miglior, ha sette anni di indagini, è il mio miglior amico, è diventato, sai, io ti racconto un aneddoto, mentre lo scrivevo e facevo le indagini a Milano, quando stavo a Milano avevo tutta la camera tappezzata delle fotografie di Cosimo, quindi la fotografia di Cosimo, la fotografia della fianza di Cosimo, la fotografia del miglior amico di Cosimo, tutti gli articoli che ha scritto, sottolineati, no? E lui aveva una fissazione, Piero, quella di capire le morti a causa di ignoti, cioè lui doveva andare a capire chi era il colpevole. Ma soltanto cold case o anche fatti come dire recentissimi? No, recentissimi, no, no, no. Cioè recentissimi in quel contesto? Cioè quello che accadeva nella quotidianità, contadini uccisi, gente sventrata, persone piene di pallottole, che la polizia e i carabinieri archiviavano come caso opera di ignoti, lui doveva scoprire chi era il mandante, chi era l'assassino. E questo lo riporta nel giornale. E queste cose le raccontava? E le raccontava perché devi sapere che l'anno precedente alla sua morte, che accadde il 5 maggio del 1960 a Termini di Merese nella galleria La Fossola, lui, che poi fu a la galleria dove l'hanno ammazzato Emanuele Tarbartolo, no? Sì. Perché... Il Casano Tarbartolo, il 1890. Bravissimo. Torna sempre tutto, probabilmente. E lui... Siamo retroscena sul Casano Tarbartolo, il primo ministro di Termini di Orlando, viva la mafia, sono mafioso. Esatto. Prima non ci rompete le palle, fateci lavorare in pace. Quindi Cosimo Cristina c'è questa liasonza che lo lega a quella galleria. Molto bene. Ed è una cosa che mi ha sempre prevedito, mi ha atturbato moltissimo. Ma quindi diciamo che era un giornalista d'inchiesta ante l'Histeram che si occupava di mafia, perché poi alla fine quelle morti ignoti erano... Si occupava di mafia. Ma era la mafia dei campieri a quei tempi. Era già la mafia che stava diventando una mafia urbana. Allora, io sono andata a Firenze, all'Emeroteca di Firenze, a prendere tutti i giornali di prospettive siciliane, che è il periodico che Cosimo curava. E in tutti gli articoli e nel prologo iniziale... Domanda di curiosità, perdona se ti interrompo, sei dovuto andare all'Emeroteca di Firenze perché qui non c'è? Non ce n'è. E questa è un'altra bellissima testimonianza di come noi siciliani siamo distratti a conservare altro che cultura e la legalità. Cioè, il patrimonio di Cosimo Cristina ucciso dalla mafia è a Firenze. Attenzione, Cosimo Cristina non è per lo Stato ucciso dalla mafia. Cioè, attenzione. Poi ci sono le inchieste aperte, chiusa, distante. Poi ci sono le inchieste aperte... Vado un po' a braccio, non conosco molto bene. Mi sembra che un giornalista catanese abbia riaperto il caso da 15 anni fa. Il primo caso riaperto fu ad opera di Giovanni Cappuzzo, che è il suo miglior amico, nonché codirettore e vice direttore di Prospettive Siciliane, che nel 1965, cinque anni dopo la di Cosimo, trova nell'ispettore Mangano, il grande Mangano, la luce e il coraggio per riaprire il caso. Perché l'inizio del caso viene archiviato come suicidio. 15 giorni come suicidio. Suicidio, peraltro il cadavere di Cosimo Cristina viene ritrovato sui binari alla ferrovia sostanzialmente. Ah, esatto, quindi si dice che si è buttato sotto il treno. Però, attenzione, attenzione. Ricordo un po' la morte di Peppino Impastato, per certi versi. Lo stesso medico che faceva autopsia, infatti. Eh, non è un caso. Eh, non è un caso. Eh, questa cosa va a dire alla pelle d'oca. Cioè, ci sono questo... La storia di questo ragazzo, perché io per sette anni ho fatto queste ricerche? Perché mi sono impuntata nello scrivere questo romanzo? Perché è una storia che deve essere conosciuta. Perché ci sono troppe cose che non funzionano. Vabbè, nei fatti di mafia poi sono sempre collegati l'uno all'altro, perché... Sì, era sparito il tacquino di Cosimo. Mancava il secondo fazzoletto. In che senso il secondo fazzoletto? Lui aveva due fazzoletti, cioè... Perché in tutte queste ricerche io ho conosciuto la fidanzata di Cosimo, quella che ai tempi era la fidanzata di Cosimo, che è morta due anni fa. Io sono andata a Roma a conoscerla. Si chiamava Enza Venturelli. E dalle testimonianze di Enza mancano dei passaggi, che è poi quello che disse mangano. Dov'è il tacquino di Cosimo? Perché non è stato trovato sui binari? Dove appuntava tutto? Dov'è il secondo fazzoletto? Dov'è il portasigarette? Dov'è il portasigarette? Questi oggetti smarriti, no? Quindi diciamo, c'è l'idea che quell'omicidio viene consumato in un luogo... Secondo Mangano, e poi secondo Luciano Mirone, che vent'anni fa ha riaperto il caso con gli insabbiati, quello di cui parlavi tu si chiamano gli insabbiati, c'è il pensiero che lui è stato ucciso da un'altra parte, vicino a un frantoio, che era là vicino, e poi il cadavere è trascinato, anche perché le chimoni sul cadavere non sono evidenti, come poi ha detto un altro anatomopatologo, con un suicidio sotto i binari del treno, perché dovrebbe essere spappolato il corpo, non lo era. Non lo era. Quindi, la cosa che ha fatto rabbrividire Mangano e poi Luciano Mirone e poi noi, è stato che, nello stesso punto, dove si è ucciso Natal Bartolo e poi Cosimo Cristina, è stato ucciso anche un'altra persona della mafia locale, che aveva il frantoio vicino a dove si pensa che Cosimo è stato portato. Si è stato ucciso. Sì. Perché è tutto così, tutto collegato. Ma qual era l'inchiesta che secondo te, ora che ho conosciuto, che ci hai presentato il personaggio di questa giornata, l'inchiesta che l'ha messo in difficoltà nei confronti delle posse? Te lo spiego subito. Peraltro lui operava nella zona, tu mi dici che faceva sempre avanti e indietro Palermo e Catania, ma lui operava nella zona di Termini, Merese e Caccamo, che storicamente è un enclave molto importante. Molto bene. La Svizzera di Cosa Nostra. Con i Panseca. Con i Panseca. Eh, con i Panseca. Lui lavorava, lui andava il giornale a Palermo, però lavorava su Termini, Cerda e Caccamo, con i Panseca. Era il Regno dei Panseca, era il bossa di Tante Giuseppe Panseca, che è il sindaco invisibile, la poltrona vuota al comune, il fratello Vellaccivesco. Quindi aveva sfiorato troppo tempo in anticipo di fare i quali intoccabili. La nostra tesi, la nostra tesi, leggendo i suoi giornali e studiando ogni articolo che ha fatto, è che Cosimo è nato troppo vicino alla verità. Quella del caso Tripi. Cosimo nel giornale afferma che l'uccisione di Tripi, Agostino Tripi, fosse venuta per mano della mafia. Una parola che all'epoca, nel 1960, tu non puoi dire, non diceva nessuno. Cioè, Peppino è impastato, a differenza di Cosimo, aveva una famiglia, aveva degli amici, aveva un clave di persone che erano dietro di lui, c'era la politica, aveva la certezza. Cosimo, su prospettive siciliane, parlava di mafia. Sì, erano gli anni in cui il cardinale di Palermo andava in giro dicendo la mafia non esiste, l'invenzione dei comunisti, bla bla bla. È la strage di Ciaculli, è l'invenzione dei comunisti, e quello è il periodo. Cosimo era un pazzo visionario. Chi parla di mafia o è folle, oppure è completamente sconclusionato, si diceva sì a termini, no? E lui non solo parlava di mafia, lui era un giornalista. E non solo questo, lui veniva da una famiglia molto umile. Madre casalinga, padre ferroviere, ma non aveva alle spalle chissà che cosa. Ma secondo te il fatto che il padre ferroviere ha qualche cosa a che vedere con il modo in cui ne è rilasciato il cadavere, no? Perché la simbologia in cosa nostra ha un'importanza. No, secondo noi questo non è stato mai rilevante. Però magari avrai ragione tu, però da quello che abbiamo fatto... No, è stata una mia... Intuizione. No, intuizione, cioè l'ho pensato sul momento e te l'ho chiesto. Magari avrai trovato qualcosa di importante. No, lui stava scoprendo che a uccidere Tripi era stata la mafia. E quindi andava direttamente alla famiglia Panzeca. Esatto, e quindi non so... Se non sbaglio sono dei grossi, dal punto di vista finanziario, fortissimi. Era la rocca forte, diciamo, finanziaria della mafia delle Alte Madonie in quel periodo. Era sì, 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 assolutamente. Cioè che poi si regherà vent'anni... no, quindici anni dopo ai Corleonesi. Ai Corleonesi. E faranno la chiusura del cerchio. Io non so, noi non sappiamo se Tripi fu ucciso da Panzeca. Questo non lo possiamo dire, non lo sappiamo. No, per carità. Però sappiamo che fu ucciso dalla mafia, questo Cosimo lo dice, questo Cosimo indaga, e sappiamo anche che stava indagando, secondo l'omicidio Tripi, sul commercio illegale e di contrabbando alla macchina del ghiaccio di Termini Merese. E cosa succedeva alla macchina del ghiaccio di Termini Merese? C'era contrabbando. Ma contrabbando di sigarette, le bionde, no? E c'è qualcosa che non funziona in questo, perché poi... La stagione è quella, la prima guerra di mafia scoppia pure per quella cosiddetta. C'è qualcosa di più grave, perché c'è un articolo su Prospettive Siciliane, scritto da Giovanni Cappuzzo, poi il critico d'arte famosissimo, che scrisse la strada per la droga passa da Palermo. Quindi loro erano andati a vedere e a capire che c'era in mezzo, stava arrivando la droga. Vabbè, diciamo, coincide, perché se ricordi è nel 1957 che c'è la famosa riunione dell'hotel delle Palme, dove si stabilisce che la mafia siciliana non deve essere più la mafia dei campieri, ma si deve, come dire, imborghesire, industrializzare, entrare nel business dell'orina, quindi il tempo è quello. Esatto, e loro avevamo capito questo. E quindi sono arrivati troppo presto, poi in commissioni parlamentari ci arriverà una quindicina. Bravo, loro erano troppo giovani, avevano 8-20 anni, 25 anni, scoperti di spalle, e troppo presto sono arrivati, ma è questo quello che ha ucciso Cosimo. Cioè capire che fosse l'ammante di tripi, quindi si serviva sul contrabbando delle macchine di ghiaccio e capire che la droga passava da lì. Quindi contrabbando di sigarette e di droga in un periodo in cui questa vicenda era assolutamente tabù. Ma non soltanto in Sicilia, in Italia, non esisteva. No, no, troppo presto, era il 60, il 58, il 59, il 60, cioè troppo presto. Poi aveva anche capito dei monaci di Mazzarino. Vicenda di cui non so nulla e quindi ti prego di raccontarvi. C'erano questi monaci che facevano delle estorsioni a Mazzarino. Però mi hai fatto pensare, cioè questa è una storia di Sciascia. Ma è una storia di Sciascia. È una storia semplice, è il romanzo di Sciascia. Nel 1956-57 a Mazzarino i monaci perpetravano delle estorsioni a farmacista, a negoziante. E hanno pure ucciso per questo Stupia, per esempio, è stato ferito, un altro Cannavale è stato ucciso. Ma tu mi stai raccontando una Sicilia ferocia e nascosta di cui non si attraccia nella memoria collettiva. Se tu leggi Perspettive Siciliane, spero che quando leggiamo il mio libro, dove riporto tutti gli articoli, te ne rendi conto, Cosimo Denuncia ha la ferocia, la crudeltà, cioè da bambini sventrati, contadini che volevano prendere la terra ma che vengono uccisi a colpi di pietra, anche perché ricordiamo che quello è il periodo in cui ci sono i decreti Gallo, le lotte contadine. Siamo subito dopo la strage dei portelli della Ginessa e le infiltrazioni di tutti i vari titoli nei partiti politici siciliani. Ora però ti vorrei fare una domanda che va oltre la cronaca, cioè va proprio nella dimensione emotiva e affettiva che uno scrittore coglie nel momento in cui si approccia con un personaggio. Perché secondo me tu hai fatto un doppio salto mortale, perché prima di tutto hai cercato insieme ad Angelo Urgo di raccontare e tracciare la storia di questo personaggio che molti non conoscono, questo giornalista coraggioso, ma poi l'ha trasformato anche in una dimensione narrativa. Cioè non c'è il rischio di perdere o mettere qualcosa di troppo di più? Cioè come fai a convincere il lettore che quelle cose che racconti non fanno parte della tua affettività nei confronti di… Attenzione! 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 Per questo nel romanzo, cioè se prendi il romanzo nella prima pagina c'è scritto è liberamente ispirato alla storia di Cosimo Cristiano. Perfetto, come si fa? Cioè è liberamente ispirato. Però la polpa c'è. Tutti i fatti, tutti i fatti raccontati sono reali. Tutte le persone raccontate lì, Enzo Aventurelli, il miglior amico ha un nome fittizio, cioè altri personaggi hanno un nome fittizio, ma sono tutti reali. E i fatti raccontati, gli articoli di giornale che lui ha scritto, i suoi movimenti, è tutto raccontato per com'è nella realtà. Perché abbiamo intervistato la fidanzata, gli amici, Luciano Mirone, abbiamo letto tutti i dossier dei tribunali, abbiamo letto il dossier Mangano, abbiamo fatto tutte le ricerche possibili e immaginabili, cioè quindi è tutto reale. Però effettivamente, come diceva Manzoni, no? Poi c'è il romanzesco, quindi quello che provi, no? La fonda è che qualcuno dice, non so chi l'abbia detto, che Manzoni è il primo scrittore televisivo, perché quando fa il racconto del lago di Como, dà una carrellata, è come se ci fosse una camera che ti guida lungo i rami del lago di Como. Sì, esatto. Quindi è scrittura tridimensionale quella. Sì, il nostro romanzo, lungi dall'essere come Manzoni, è molto, sa molto di sceneggiatura. Sì, perché, onestamente, diciamoci anche la verità, una volta che avete fatto un impegno, vi siete sobbarcati a un impegno, come dire, così storicamente complesso, penso che ci sia la volontà anche di... Di farne un film. Di farne un film, fare una traslazione, c'è l'idea è quella di farne un film. È quello che faremo. Pensate di fare un documentario o una fiction che racconti? Una fiction. Fiction. Ma c'è un termine, tu che ti occupavi di queste cose un po' misteriose della tv, non c'è un termine italiano da sostituire a fiction? perché io mi ricordo, mi ricordo, la tv degli anni 70. Mia madre lo chiama sceneggiato. Lo sceneggiato. Lo chiama sceneggiato. I meravigliosi sceneggiati italiani. Mia madre lo chiama sceneggiato. Sono quelli. La Rai TV pubblica aveva una tradizione fantastica di sceneggiato. Sono quelli comunque. Quindi allora, no, 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 sì, sono su... Cosimo Cristina penso che tu debba dedicare un bellissimo sceneggiato. Sceneggiato, ok. Che è più bello. Ok. Allora, riepiloghiamo un pochettino per chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Qui oggi con noi ospite c'è Francesca Lamantia che ha scritto un libro che io avrò sicuramente, andrò a comprare libreria appena è disponibile, poi chiederò il tuo autografo perché io credo che i libri, soprattutto quando parlano di temi così importanti, non devi aspettare che ti li regalano, ma come dire, li devi andare, cioè, penso che il lettore deve fare uno sforzo di volontà. Allora il 26 maggio lo vai a comprare? Il 26 maggio lo vai a comprare, poi aspetto che tu torni con successo in Croceano Costinger dal Salone di Torino, insomma, aspetto l'autografo. Quindi ricordo a tutti, il libro si chiama Un uomo senza paura, è scritto da Francesca Lamantia e da Angelo Urgo per i tipi di La Corte di Tori. Noi, diciamo, avendo ascoltato la storia di Cosimo Cristina e aspettando di poter leggere questo libro, e magari fra qualche anno, perché i tempi sono quelli, ci vorrà un po' il mio sceneggiato televisivo, guardarlo in tv, è come dire, ridare onore alla memoria di un siciliano coraggioso, un ragazzo ventenne, che aveva sfidato le più importanti famiglie masiose dell'epoca, no? Stiamo parlando del gota di Cosa Nostra e delle Alte Madonnine. Francesca, un messaggio ai nostri spettatori, un motivo per comprare il libro? Stare sette anni sulle tracce di Cosimo Cristina mi ha portato a conoscere una persona straordinaria che è stata dimenticata, come diceva prima Piero Rimossa. Questo libro va letto non perché l'ho scritto io, perché l'abbia scritto Angelo, ma perché è la storia che va conosciuta, la storia di Cosimo, la sua passione, il suo volere a tutti i costi, come scrisse nel prologo del suo giornale del 1959, dire la verità senza paesi sulla lingua. E tutto quello che attorno alla sua morte, questo finto suicidio ben organizzato e ben oliato per far muovere la macchina del fango, quindi la dimenticanza, non ebbe neanche il funerale in chiesa, va letto, va ricordato e va conosciuto chi era e chi è stato il primo giornalista ucciso dalla mafia. Perfetto, Francesca io ti ringrazio e ringrazio i nostri telespettatori e web spettatori, l'invito a tutti a comprare il libro di Francesca e di Angelo e ci vediamo poi quando torni dal Sanitorino. Arrivederci e buona serata alla prossima puntata di Talk Sicilia. Grazie a tutti.